buona giornata, sei pronto? i cavalli sono caldi, possiamo andare? vai attenzione attenzione a tutto l'equipaggio allacciate le cinture di sicurezza perché stiamo per decollare, grazie e buona navigazione la giornata è meravigliosa, ci sembra di volare la pace la pace Parla la pace. Parla la pace. Parla la pace. Parla la pace. Parla la pace.